per Allen, spazio per Zacchetti che attacca bene, beh che gran terzo tempo per lui, fuori per Antonuti, di sezione difficile, subito il tiro da tre punti, Michele Antonuti con la tripla, nuovamente più 13, anzi più 12, tiro da due di Michele Antonuti, ma il concetto non cambia, sono anche le seconde linee da una mano a Cesare Pancotto in questa partita, fallo di Sales, tripla valida.